Anche oggi video distruttivo dedicato al fantacalcio, non istruttivo, distruttivo perché andremo a distruggere gli slot che abbiamo creato insieme in queste due settimane di live con le mie fasce, dici Lorenzo, ma con le fasce si creano gli slot, e no, le andremo a distruggere con le mie fasce, perché? Perché gli slot li abbiamo creati insieme durante due settimane con un campione assolutamente valido per quanto riguarda il fantacalcismo in Italia, più di 2000 contatti ogni live, dunque diciamo campione molto 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 importante e una sola persona, io con le mie fasce li andrò a distruggere, no, cioè gli slot che abbiamo creato insieme li utilizzerete durante l'asta, i miei sono un'indicazione del mio pensiero per andare un po' a discutere su tutti quanti i giocatori. Vi ricordo che utilizzeremo la suite di Fantalab per andare a fare questo video, suite che potete utilizzare per gestire il pre-asta, cioè questo, cioè lo studio propedeutico all'asta che vedrete durante appunto i periodi di asta nelle nostre piattaforme, nei nostri social insieme a tutti gli altri fantayoutuber, e poi per gestire il post-asta perché utilizzerò Fantalab per tutte le 38 giornate per consegnare le formazioni per dare i cantaconsigli. E vabbè, vi ricordo che potrete trovare anche le mie fasce ed i miei slot se avete la versione premium di Fantalab, se vi iscrivete qui sotto appunto sul link in descrizione, e se fate il join con il mio canale YouTube, solo 99 centesimi al mese, la cosa che costa di meno in Italia, l'abbonamento al mio canale. Quindi mettetemi un like soltanto per questo, e iscrivetevi che invece quello non costa niente, è soltanto un click su iscriviti. Andiamo a vedere, allora i difensori, questi sono i vostri slot, Ternandas, Di Marco, Premier, Buongiorno, Di Lorenzo, Bastoni, Pavard, Dunfris, secondi slot, Danilo, Bellanova, Tomori, Acerbi, Spinazzola, Rachmani, Mancini, Magari, Cambiaso, Pavlovici, l'ha inserito come terzo slot alto, Cinsiti, Ruggeri, Martina Squarta, Poche, Carlos Augusto, Tutodo D'Armiano, Romagnoli, Indica, Colasinas, Vasquez, Angelinho, Vascherotto, Zappagosta e De Vrai come quarti slot. Li avevamo creati insieme con il budget di spesa creato insieme, dunque, visto tutto quanto, quanti eravamo sempre costantemente in live, un campione assolutamente rappresentativo del fantacalcismo in Italia. Andiamo a vedere invece, vedete, strategia, questa è la Canta for President, cioè il Canta che ha raccolto tutte quante le istanze di tutti quanti i partecipanti alle live e le ha messe per iscritto dentro Fanta Lab. Invece sono le segrete del Canta, questa è infatti quella sopra, dovrei chiamarla il Castello del Canta, le segrete del Canta, forse sarebbe più concepibile. Adesso cosa mai cambio nome? No, perché se no vedete il video non ci capite più niente. Ed eccole qua, la mia idea che ho in testa di forza appetibilità per me, fantacalcistica e budget di spesa. Primo posto, Teo Hernandez, ho messo un 13% di budget, perché a me l'idea che Teo Hernandez sia rigorista, ragazzi, e a me ispira tanto, cioè avere un difensore rigorista, soprattutto un difensore del Milan rigorista, un conto è Mina, il Cagliari chiedeva due rigori all'anno, un conto è rigorista invece del Milan, capite che è tanta roba, guardate Giro l'anno scorso, che gol ha fatto, porca miseria, un Teo Hernandez che fa 5 gol, metteteci con un rigore, metteteci altri 4 rigori, Teo Hernandez è un giocatore che può farvi 9-10 gol, un difensore che fa 10 gol è il bug più assoluto, credo, del fantacalcio. Prima fascia anche Di Marco, però al 10%, perché appunto non ha questo appeal dei rigori, sempre tanto un 10%, però mi posso spingere fino a un 10% per Di Marco, allo scorso una fantamedia veramente irreale. Seconda fascia, Bremer, buongiorno Di Lorenzo e Bastoni, e sono d'accordo praticamente con voi, ho riconfermato quello che abbiamo detto durante tutte le live, dunque non ci sono sorprese come è successo per gli attaccanti e per i centrocampisti, ma qua mi sono attenuto a quanto detto durante le live. Budget di spesa tra il 7% e l'8% per la seconda fascia di difensori, posso spendere un 7% per Di Lorenzo, posso spendere un 7% per Bastoni, posso spendere un 8% per Bremer, ma non di più però, non mi spingo oltre. Terza fascia, sono quelli tra il 5% e il 4% di spesa, troviamo Pavard, che oltre il 5% non vado sinceramente, Bellanova un po' sotto, Dumfries attorno al 4%, come Tomori, come Acerbi e come Mancini, questi sono secondo me i terza fascia. Guardiamo gli slot, come primo slot avremo Ternandas, Di Marco, Bremer, Buongiorno, Di Lorenzo, Bastoni, Pavard, Bellanova, praticamente invertendo Bellanova e Dumfries, quello che avevamo detto noi, che praticamente sono simili insomma. In seconda fascia avremo Dumfries, Tomori, Acerbi e Mancini, Danilo, Martinez, Quarta, Ruggeri e Pavlovich. Dunque, anche qua, presta poco quello che ci eravamo detti, perché appunto in quarta fascia, quelli tra il 3 e il 3,5% ho messo Danilo, Martinez, Quarta, Ruggeri, Pavlovich, Cambiaso e Dodò. Giocatori che mi interessano pantacalcisticamente, sì, molto, però a quel prezzo. Per Pavlovich non spendo il 5%, spendo il 3,5%. Per Dodò, per quanto lo ritenga che possa essere il Carlos Augusto della Fiorentina, lo spendo il 6%, perché la mia idea è che possa essere poi collima con la realtà dei fatti, che al momento è Dodò. Quindi salutiamo Dodò che ci segue. E quindi un 3,5% lo ritengo un prezzo assolutamente abbordabile, accessibile, giusto. E come per attaccanti e centrocampisti ci sono il completamento di Rosa. Cioè, quei giocatori che a me piacciono da morire, ma che però non è che pago come le fasce superiori, insomma. Mina del Cagliari ne ho parlato, probabile rigorista del Cagliari, probabile, che sicura che arriva a Nicola, fa il rigorista del Cagliari, beh, 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 mutito di te, eh, Mina, sì! No, si presume possa essere Mina, e dunque questa presunzione me lo può far mettere tra i miei giocatori appetibili per completamente Rosa. 2%, follia 2%, non di più. Gatti, eh, Gatti è una demenza che c'ho, a me la coppia Gatti-Mancini, ragazzi, sapete, a me è una coppia che calcisticamente fa impazzire. C'ho sto bug, che devo fare? Eh, amatemi anche per i bug che c'ho, non posso essere perfetto. Del Prato del Parma, giocatore che mi piace tanto, anche lui vive di un hype pazzesco come tutti i giocatori del Parma. Ma, perbacco, non pagate il 5%, cioè un 1%, 1,5% proprio per dire lo voglio, beh, non andiamo al 3%, insomma. C'è André, altro giocatore che mi piace moltissimo, perché ho messo l'1%, ma tendenzialmente si prende sempre a un credito, non si capisce perché i giocatori che hanno scorso 2 gol e 3 assist. È vero che i voti non è che li prenda altissimi, perché con 2 gol e 3 assist c'ha la fantamea, è il 6, quindi dice, però il bonus te li porta, è anche facile andare a prendere le partite dove ti porta bonus. Masina del Torino è uno dei rappresentanti della difesa del Verona, che devo ben capire chi è quello che si spinge meglio di testa. Al momento è Magnani, mettono un giorno Magnani, un giorno Coppola, oppure Fresa, oppure Ciacciua, mi piacciono tutti la difesa del Verona. Insomma, ha fatto una bella difesa Zanetti. Nomi che invece non terrò in considerazione in fase d'asta, sia perché al momento sono troppo costosi, secondo me, per quello che possono dare, e sia perché non terrò in considerazione neanche se li pagassi leggermente meno. Cioè, per prendere uno Spinazzola, che al momento viaggia attorno al 5-6%, follia assoluta, veramente, ma come ci pensate, cioè, io Spinazzola lo pagherei, me lo date all'1,5%, lo prendo, ni, ni, al 6, ma manco ci penso, ma manco rischio ad alzarlo al 6%, veramente, sarò che lontano. Rachmani, altro giocatore, al 4%, che al momento non andrei a prendere. Angelinio al 4%, da romanista, Angelinio al 4%, non lo prendo. Precampionato, sottotono. È arrivato Dal, che è l'alter ego di Angelinio. Dunque, non so chi vorrà far giocare dei rossi. Dal, che viene da 13 partite già, che già in forma, Angelinio ancora sta stentando. Ci spendono, ci spendono. Romagnoli difesa della Lazio, che non mi sta facendo capire tante cose. Paschirotto, c'è il problema con Gasparra. Carlos Augusto, che io prenderei molto volentieri, ma al 5%, no, lo prendo al 2, al 3, non di più. No, canta la maglia dello scudetto della Roma, quella NR Barilla, ma dove l'hai trovata? Che è introvabile, ma quanto l'hai pagata? Ma niente, ragazzi, l'ho pagata poco più di 20 euro su calciostore24.com, inserendo il codice sconto LC. Trovate tutte quante le maglie storiche delle vostre squadre del cuore. Il link è qui sotto. Vi ricordo, calciostore24.com, codice sconto LC. Vabbè, Olm, Colasina, Spongrasic, Varane, soprattutto Varane al 4% mai nella vita, e tutti quanti gli altri. C'è De Vrai, ma De Vrai lo sapete, che se prendo Cerbi faccio la coppia con De Vrai, quindi De Vrai è messo lì, ma tendenzialmente è un giocatore che potrei andare a prendere, e fatemi sapere cosa ne pensate delle fasce di difesa. Questa volta capisco che ci sia poco da dire, perché effettivamente coincidono abbastanza, a parte qualche nome, con quelli che avevamo creato insieme. Vabbè, si conclude questo video, e manca soltanto l'ultimo video, quello più corto, ma quello più intrigante, cioè quello sui portieri. Nel frattempo, un saluto dal secondo divano più famoso del web, se ha capito la battuta, 6-1-Zozzone.